La sede storica di Corso Vannucci dell'Unicredit di Perugia dopo un anno di ristrutturazione apre le sue porte al pubblico. E per festeggiare l'evento, una delle pasticcerie più antiche d'Italia, ovviamente parliamo della pasticceria Santri, vi ha dedicato una vetrina? Io come ho detto poc'anzi sono molto impressionato dal sentimento di profondissima amicizia e vicinanza che sia gli imprenditori sia le famiglie di Perugia ma devo dire in generale Umbre mostrano nei confronti della nostra banca. E questo ci fa particolarmente piacere perché noi siamo una grande banca internazionale, siamo presenti in 50 paesi, abbiamo 160.000 colleghi che lavorano per la banca in tutto il mondo ma contemporaneamente riusciamo a trovare questa capacità che peraltro viene dalla nostra storia, dalle nostre origini, le nostre radici, sono le banche locali che via via abbiamo acquisito. Dicevo, riusciamo a trovare questa capacità di radicamento nel territorio davvero unica che è a dir la verità il nostro vero patrimonio quando parliamo dei nostri clienti e della nostra presenza. E quindi insomma è da un lato un grande piacere e dall'altro un grandissimo stimolo a far sempre meglio perché vogliamo meritarci questa fiducia anche negli anni a venire. Un anno di lavori intensi, oculati, portati avanti nel rispetto della tradizione ma senza disdegnare tutto che il nuovo ci può portare. Il nuovo vuol dire consulenza, vuol dire trasparenza, vuol dire stare vicini alle imprese e ai privati, capire i loro bisogni finanziari, accompagnarli, portare avanti progetti che possono dare valore al nostro territorio. Questo è il problema che noi come banca affrontiamo quotidianamente e vi assicuriamo che lo porteremo avanti con sempre più determinazione e impegno.